Guardate, pube, tuberosità ischiattiche e coccice, quindi coccice, ischi e pube sono i quattro punti d'appoggio del pavimento pelvico. Eccolo qua, vedete? Qui. Per un ipertono dobbiamo andare ad elasticizzare questi muscoli e come facciamo ad elasticizzare dei muscoli? Dovremmo allontanare le ossa a cui questi muscoli sono legati. Ebbene, allora, iniziamo. Ora, la sensazione che devo avere, tocchiamo gli ischi, afferriamo gli ischi, la sensazione che devo avere è che quando vado in piegamento, gli ischi si allontanano. Quindi, vado in piegamento, sento gli ischi che si allontanano, rimango in questa posizione, ritorno senza glutei. Di nuovo, e vado giù, sento lo stretch, l'allontanamento, e torno. Ancora, vado giù, percepisco l'appoggio, eh? E là. Cerca di lasciare rilassati i glutei. Lo so che sono muscoli motori per questo esercizio, e quindi è difficile escluderli, ovviamente, ma dobbiamo cercare di allontanare gli ischi più possibile. Ebbene, allora, iniziamo. Grazie. Grazie.